Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, domenica 3 maggio. Alcuni mi hanno detto ma come mai ieri non hai fatto la zuppa? Ragazzi, toc toc! Io la zuppa la faccio quando ci sono i giornali e poi quando ci sono eventi eccezionali. Ieri ci siamo presi una giornata di pausa semplicemente perché i giornali hanno un solo giorno di pausa a maggio, cioè il primo maggio, quando non si scrive, quindi 2 maggio i giornali non sono i dico. La mandiamo subito a parlare di quello che succederà domani, cosa che fanno tutti i giornali di oggi. Cioè domani, parliamoci chiaro, succederà un gran casino. Questo è il titolo, domani un gran casino. In realtà i giornali oggi invece si dividono su questa vicenda e comunque il titolo, l'Oscar del titolo più ridicolo, purtroppo ce l'ha sempre il giornale più importante italiano, almeno storicamente più importante, che è il Corriere della Sera. Così l'Italia prova a ripartire. E no, e non va bene, e sembra che l'Italia sta provando a ripartire. Questo è quello che ci concede Conte per ripartire. Voi potete essere d'accordo o non d'accordo, ma non è che l'Italia prova a ripartire. E Conte prova a far ripartire un pezzo dell'Italia che ha stabilito insieme al Comitato Tecnico Scientifico che possa ripartire. Non è l'Italia che prova a ripartire, perché se voi lasciaste la libertà e la responsabilità ai singoli di ripartire, ci sarebbero quelli che stanno a casa impauriti dal virus e quelli che provano a ripartire con i criteri che un governo normale dovrebbe dare di sicurezza. Quindi è esattamente fuorviante questo titolo. Milano e Roma, la folla che spaventa le città. Ma non so se spaventa le città. Io oggi ho letto un pezzo a pagina 102 del Messaggero, in cui Enrico Vanzina, il regista, scriveva per quale motivo la libertà è bella. E sapete perché è bella la libertà? È una cosa molto banale. Voi direi, ma ci voleva Vanzina per pensarlo. No, la libertà è bella non perché ci sono i padri costituenti, non perché è l'ossigeno, come diceva Calamandrei, non perché fa parte della cultura occidentale, non perché i nostri nonni hanno combattuto per la libertà. Perché se non si è liberi non si è felici. Va bene? Perché se non si è liberi non si è felici. Chiaro il concetto? Questo è il punto fondamentale che bisognerebbe forse far capire a tutti questi fenomeni contentissimi della loro non felicità. Michela Marzano, oggi nascosta a pagina 102, anche lei, della Repubblica, e voglio dire sociologa, non so bene cosa sia, ma certamente donna di sinistra, ci spiega un'altra delle cose ridicole di questo decreto del 4 maggio, e cioè la questione congiunti e affini. Perché la questione congiunti e affini, oltre a creare un casino pazzesco, fa sì, dice la Marzano, che questo Stato, in maniera burocratica, rigida e ministeriale, decida che è più importante per un essere umano, una fine che magari non ha mai visto nella vita sua, un congiunto che non so che cosa diavolo vuol dire, se non a quell'avvocato de Foggia, può essere venuta in mente, così come celebrò la morte del fratello di Mattarella in Parlamento e non sapeva come si chiamasse di nome e disse il congiunto di Mattarella. Quindi è figlio di quella cultura burocratica, legale, da avvocato, meridionale. Meridionale, capito? Meridionale, perché ci sono i grandi avvocati, i grandi studi notarili della Napoli che ci ha insegnato il diritto al mondo, e poi ci sono quelli, diciamo, donchisciotteschi, insomma, del rigore spagnoleggiante che alcuni perfettamente nel meridione incarnano, che è quello di Conte. Per cui si parla di congiunti, e il congiunto è il più importante dell'amico, e quindi io posso vedere il congiunto a fine, dice Michele Marzano, ma non posso vedere l'amico, chiaro? Non posso vedere l'amico. È una cosa assurda, ma il punto fondamentale, io vi invito, non a combattere questi dettagli totalmente inutili della nuova autocertificazione, ma il principio, il principio ve lo leggo, la grande virologa, Ilaria Capua, io poi questi virologi, poi ne parlerò, lavorassero, ma lavorassero, meno articoli sui giornali, perché il nostro mestiere è quello dei giornalisti, e è come se io mi mettessi in un laboratorio, io non mi metto in un laboratorio, loro dovrebbero forse stare un po' più in un laboratorio e un po' meno sulle prime pagine dei giornali. Ilaria Capua, Corriere della Sera, il coronavirus ci ha tolto la libertà. No, 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 la sequenza logica è questa, il coronavirus ha contagiato, ha ucciso, e il governo ci ha tolto la libertà, perché il coronavirus non ci ha tolto la libertà, è il governo che ci ha tolto la libertà, la libertà la tolgono i governi, la tolgono i politici, la tolgono gli esecutivi, poi dopo i motivi per i quali la tolgono possono essere più o meno giustificati, ma non è il coronavirus che ci ha tolto la libertà, e il che è fondamentale, perché sennò deresponsoribilizziamo nel bene e nel male questo governo non è Ilaria Capua, il coronavirus che ci ha tolto la libertà, è il governo che ci ha tolto la libertà e ci ha fatto le autocertificazioni per andare a trovare un amico a 50 metri di distanza che magari ha già avuto il virus e magari è già non infetto, oppure per il quale noi vogliamo assumerci la responsabilità di andarla a vedere pur sapendo che è infetto, oppure di cui ci fidiamo e lo andiamo a vedere. Quindi Ilaria Capua, grandissima virologa, il problema non è che è il virus che ci ha tolto la libertà, sono i governi di tutto il mondo che per combattere il virus ci hanno tolto la libertà con gradi diversi di separazione, verrebbe da dire. Barbara Spinelli, un'altra fenomena, questa invece purtroppo la giornalista la fa, ma mi sembra anche la parlamentare europea, la maggior parte dei paesi UE e dei governi hanno deciso un'uscita minimalista dal lockdown. E qui c'è la cattiva fede ovviamente di gente come Barbara Spinelli che è molto brava a fare le citazioni, a ricordarsi di chi si è figlia e meno di andare a controllare come sono stati i lockdown del resto dei paesi europei. Non parlo della Svezia, diventato oggi il mito dell'OMS che non ha fatto nulla di queste, come possiamo dire, di questi lockdown. Francia, Germania hanno fatto lockdown molto inferiori a quelli dell'Italia e toc toc, Spinelli, tu che fai l'europeista? Ma vai a vedere cosa succedeva a Berlino, vai a vedere cosa succedeva negli altri paesi europei mentre noi eravamo chiusi e sbarrati. Va bene? In tutta Italia, non soltanto in Lombardia, ma anche a Calabria, zero contagi. Oggi distruggono Iole e Santelli, fa la spiritosa come sempre la, come si chiama la Lucarelli sul Fatto Quotidiano, zero contagi. Vorrei veramente che poi dopo ci si ricordasse, quando fra sei mesi, come titolo oggi della Repubblica, 40.000 poveri in più, cioè gente che chiede i pacchi alimentari alla Caritas, beh insomma, adesso siamo tutti bravi dal calduccio delle nostre case, ma no, dobbiamo stare sicuri, dobbiamo essere, il virus può ritornare la seconda ottata. Chi non mangia? Chi non ha una possibilità di lavoro? Beh insomma, quelli lì non hanno grande libertà di farsi le vostre pippe, forse non se le leggono neanche, ma anche Sallusti, non è che questa cosa, questa cosa è perfettamente bipartisan, oggi fa un pezzo in cui il fondo del giornale sfotte, ma io con Sandro ne parlo spesso perché abbiamo idee completamente diverse su questa emergenza, beh l'ultima riga del fondo di Sallusti, sapete qual è? liberi sì, ma con prudenza, ma io dico, caro Alessandro, io sono sempre stato libero e talvolta ho usato la prudenza, talvolta no, sono libero di guidare la macchina? Sì, quando la uso la prudenza? Sono libero di andare a farmi una maratona? Sì, quando la uso la prudenza? Sono libero di buttarmi col paracadute? Sì, ma come uso la prudenza? Cioè fa parte della libertà essere prudenti, e anche non esserlo e anche vincere, voglio dire, l'idea che questo non sia un mondo rischio zero, però comunque con Sallusti di questo ne ho parlato tante volte e non è che finisco qua a parlarlo. Della Marzani ve ne ho parlato, ma in realtà il punto sostanziale è che sul quale io vi invito, soltanto il tempo oggi lo riesce a cogliere, ma vi sembra normale che ci tolgono le libertà per i motivi del virus, non perché il virus ha togliercelo, cara Capua, ma perché il governo ce le toglie, ci toglie le libertà fondamentali costituzionali con un DPCM. Poi il DPCM in realtà non si capisce assolutamente nulla, e sapete a cosa ci dobbiamo grappare? Così soltanto il tempo, il governo delle FAC News, come dice il tempo, cioè le FAC, cioè per sapere come dobbiamo gestire le nostre libertà, bene, sapete qual è la cosa fondamentale? Siamo esattamente come in un pezzo di aranzulla, un pezzo per capire come si accende e come si spegne un hard disk, cioè le FAC, le FAC, sembra di stare su Amazon, cioè il governo italiano ci fa le domande e risposte per capire quali sono le libertà a cui ne possiamo più o meno raggiungere. Stupendo oggi il pezzo di grasso nei confronti di Arcuri, non lo allarga a Conte, perché è stupendo quando dice colti da improvvisa notorietà, non riescono a tenere a freno il loro narcisismo. Questo lo rivolge ad Arcuri, quello che ha detto che l'app Immuni doveva essere obbligatoria e poi non lo era, quello che ha detto che le mascherine devono costare 50 centesimi e sono scomparse le mascherine, però è evidente che Grasso non lo fa, ma si potrebbe estendere benissimo, oltre da Arcuri, anche a Conte. Forse Colau è l'unico a cui non si estende questa vicenda, perché un'intervista ha fatto e lì siamo rimasti. Nel frattempo l'azzolina decide che si va a scuola a settembre, tutti i giornali ne parlano, Gavosto oggi sulla stampa dice la prudenza è giustificata, Nino Materi, in realtà la nuova scuola ci ispira, si ispira alle targhe alterne, scrive giustamente sul giornale, ma il punto fondamentale è un altro. Ma perché dobbiamo già rinunciare alla nostra libertà e alla nostra libertà e normalità a settembre? Io questo non accetto. Io non accetto l'idea che noi a settembre si debba dare per acquisito che dovremo avere un nuovo modo di vita che è diverso rispetto all'attuale. Io voglio continuare a fare la vita di prima, ma meglio di prima semmai, non peggio di prima. Una scuola che va a metà rispetto al passato, fa peggio agli studenti più deboli, una socialità che è a metà rispetto al passato, fa peggio a tutti quanti le persone che si sentranno meno felice, un'azienda che dovrà adottare ulteriori misure burocratiche di salute, andrà peggio rispetto a tutto il resto del mondo. Ma questo evidentemente gli italiani non lo colgono, se non i pochi che seguono questa zuppa. E l'altra cosa fantastica è il Premier Conte, che continua ad avere la fiducia, secondo Diamanti, del 61% degli italiani. scende dal 71%, dice, rispetto all'ultima rilevazione di marzo, oggi è al 61%. Ma ragazzi, non è che gli altri leader, Matteo Salvini, Meloni, crescono. L'unico che cresce è Zaia. Cioè, sembra di capire da questa indagine che l'unica persona, diciamo, di governo che sembra salire nelle proprie amori da parte del pubblico è Zaia. Vi è più sul fatto che Zaia, il sindaco e il presidente di una regione, toc, toc, si tratta tutte di cazzate. Tutte, tutte. Perché quando io vedo che al quinto punto per i leader più apprezzati c'è l'abbonino, io vorrei chiedere a 40 milioni di italiani che votano, ma chi è l'abbonino? Come fate ad aver scelto tra le prime quattro persone l'abbonino? Sapete che cosa è successo? Queste sono indagini della straminchia che ti sottopongono dieci nomi e tu un po' così, ha sentito dire, metti più o meno la fiducia. Ma chi può avere fiducia nell'abbonino? E come dire, avete fiducia in Francesco Rossi? E dici sì, qualcuno lo conosce, ma il 90% degli italiani, ma che cacchio me ne frega a me della fiducia dell'abbonino? Cioè, vi dà il senso dell'inutilità di queste robe. Forse vale per Conte, Salvini, ma insomma, l'idea che la fiducia... E poi si fanno i titoli, le pagine, e commentiamo noi lunedì a Quarta Repubblica la fiducia di Conte. Tutte minchiate. L'unica fiducia che conta è quella che c'è nelle elezioni e in questo paese le elezioni non ci saranno per un bel po'. Chiaro? Compreso quelle regionali dove Zaia sembra crescere, chi gliel'hanno rimandata di sei mesi. Ma vabbè. Nel frattempo, mentre tutti sono sicuri di come sta facendo bene Conte, eccetera, io oggi sui giornali leggo che a scerto del Pascale dice che è l'uomo del farmaco antivirale che è andato benissimo. Poi leggo lo Spallanzani che sta provando il test sul vaccino. E poi leggo, come avete letto tutti quanti voi, perché si è arrivato a migliaia di persone, il fatto, prima pagina del messaggero, che la terapia per cui prendono il sangue da un immuno come me e lo mettono con i miei anticorpi in una persona malata fa benissimo. E questo lo stanno facendo al San Matteo di Padova, al Carlo Poma di Mantua e a molti ospedali del nord. Quindi prendono il mio siero e lo mettono a una persona che sta male. E questo sembra dare dei risultati. Come sembrano dare dei risultati tutti gli altri medicinali. Quello che voglio dire è che brancolano nel buio e gli unici che non brancolano nel buio sono i grandi leader della nuova politica virologica italiana. Burioni! Quello che, siccome non è roba sua, questa roba del San Matteo e del Carlo Poma di Mantua dice no, ma sono tutte minchiate. Poi dopo, un po' come erano tutte minchiate, il fatto che in Italia non c'era il virus e poi ovviamente è arrivato. Nel frattempo, quello che sta succedendo nelle città è incredibile Milano. Cioè, voi dovete vedere una via principale di Milano, ne parla oggi Materi, no, chi è che ne parla? Ne parla Susca oggi sul giornale, ma non è l'unico. Una delle vie principali di Milano è che Corso Venezia, accanto a Corso Venezia faranno a Corso Buenos Aires. Sai che bella grande idea hanno fatto? Hanno ridotto la strada a una corsia. Hanno messo la cosa per i pedoni, lo scarico e carico. Cioè, stanno rendendo le larghe strade di Milano, quelle poche che ci sono, a una corsia. Ragazzi, siete dei geni, siete dei geni. Distruggeremo in questa maniera, distruggeremo in questa maniera la possibilità. Anche perché il trasporto pubblico sarà sicuramente la grande vittima di domani, perché se veramente torneranno a lavorare, come dicono 4 milioni di persone, ragazzi, con i mezzi pubblici di oggi c'è poco da dire che staranno messi malissimo. Gli aiuti di Stato. È fantastica questa tabella del sole 24 ore, ve la segnano. Su 1.500 miliardi di aiuti di Stato, 1.000 se li becca la Germania. Cioè, che la stessa Germania aiuta le sue aziende. Cioè, qui non bisogna lamentarsi. Qui bisogna dire, beh, la Germania sta aiutando le sue aziende molto più di quanto stanno aiutando le loro aziende e gli altri paesi. Perché gli altri paesi sono liberisti? No. Perché gli altri paesi non hanno aziende in crisi? No. Perché sono inefficienti. Cioè, la Germania sta aiutando il 51% di questi aiuti di Stato vanno a imprese tedesche, pagate dai tedeschi, e solo il 17% degli aiuti di Stato va ad aziende italiane, aiutate dagli italiani. Perché siamo più liberisti? No. Perché i nostri sono delle pippe, non riescono, per esempio, su questa vicenda dei prestiti alle imprese. Oggi il messaggero, il sole, ci spiega che su un range tra i 30.000 e i 50.000 sono le piccole imprese sotto a 25.000 euro che sono riuscite a beccarsi questo prestito. Perché è un casino. Perché l'Italia è fatta soltanto di burocrati e avvocati alla Conte. E siamo morti con questi. E non riusciremo a sopravvivere con questa gente qua, che sono bravi a fare le FAQ per togliervi i diritti e i titoli dei decreti, ma non riescono a darvi una lira. Intanto oggi sui giornali si parla tanto del decreto di aprile che è diventato quello di maggio. Dovevamo fare un decreto per aiutare con la liquidità ad aprile e non sono riusciti a farlo in un mese. Un mese! Oggi sul Sole 24 Ore ci spiegano che sapete quante persone hanno avuto la cassa integrazione in deroga su 2,6 milioni potenziali beneficiari. La cassa integrazione in deroga sono un aiuto per quei ristoratori, baristi, piccole imprese che vogliono mettere in cassa integrazione i propri dipendenti. Sono 2,9 milioni potenziali persone messe in cassa integrazione e l'hanno ricevuta in 35 mila. 35 mila su 2,6 milioni di italiani. E questi fanno, come oggi ha fatto l'intervista Conte alla stampa, a Giannini un'intervista da brividi perché sembra tutto lui. L'ultima domanda che gli fa Giannini dice ma lei chi è? Una domanda di quel tipo e aspettate ve lo dico dice Conte no no ma ve la devo dire perché me la sono segnata questa frase chi è Conte? Aspetta, il ritratto di Arcuri l'economia in crisi ve l'ho parlato no ma è bellissimo Conte alla stampa per riveare il circuito economico è necessario che i clienti si sentano sicuri e protetti allora caro Conte fino a prova contraria i clienti si sentano sicuri e protetti non per le norme che fai tu non per le autocertificazioni che fai tu ma si sentono sicuri e protetti quando loro lo decidono non quando lo fa il governo e poi alla fine io sono un cittadino di buone letture formatosi al cottolicesimo al cottolicesimo com'è che dice democratico al cattolicesimo democratico io sono un cittadino di buone letture formatosi al cattolicesimo ma è una roba che poi sono stato allevato da quattro nerds di quattro nazionalità diverse una più zoccola dell'altra questo mi sarebbe piaciuto ve lo ricordate? sono stato allevato da quattro nerds una più zoccola dell'altra ve lo ricordate? erano i grandi mostri di risi quando c'era sordi che spiegava chi era invece questo dice un cittadino di buone letture formatosi al cattolicesimo democratico guardate oggi parlo non riesco a corrare perché c'è un mal di testa mostruoso nel frattempo vi segnalo ovviamente sull'economia vi ho già parlato c'è un'intervista a Giovannini un altro grande professore italiani che è nelle task force al mattino la crisi una grande occasione per fare major il lavoro nero questi questi non hanno scusatemi non hanno proprio idea non hanno idea del lavoro nero non hanno idea di che cosa vuol dire lavorare come hanno parlato tutte le persone che non sono diventate professori universitari a 18 anni questi non so come dire non hanno mai fatto una pinna con un motorino questi non sanno cosa è una canzone cioè il professor Giovannini io dico come si fa a pensare che in un momento di crisi economica in cui siamo tutti nella merda questo sia un'opportunità per uscire dal lavoro nero ci arriva non un professore universitario ma ci arriva chiunque a capire che questa sarà l'occasione per cui tutti lavoreranno in nero e cercheranno di svoltare la minestra come potranno come potranno non con queste minchie di autocertificazioni oggi hanno deciso che non si potranno licenziare le imprese non potranno licenziare per altri due mesi i propri dipendenti per motivi economici quindi alle imprese cosa dici non ti do i prestiti non ti permetto di lavorare non ti do i negozi in cui vendere i tuoi prodotti non ti do la sicurezza ti metto tutti quanti dei criteri dei paletti in più per la sicurezza sanitaria ma tu non puoi ne licenziare capito? questo è il criterio volete che io pensi che le aziende licenzino? no io sono contrario se domani mi licenziano il mio sono molto seccato ma il punto è che se tu non liberi questo mercato e lo riempi pieno di regole e costrizioni non vai da nessuna parte vai da Giovannini che fa professore universitario e che non potrà mai essere licenziato e non beccherà mai una consulenza in nero che non riuscirà mai immagino ma chi sta in quella condizione? quanti sono i protetti che stanno in quella condizione? ultima questione che voglio segnalarvi è Guzzanti Paolo Guzzanti oggi perché questa è un'altra cosa che mi sta qua tutti i pannelliani tutti che celebrano Pannella nelle sue follie nelle sue esagerazioni perché Pannella è questo è tutto il contrario di tutto però è straordinario Guzzanti oggi sul giornale che parla della mummificazione di Pannella che a 90 anni dalla sua nascita tutti stanno facendo gli stessi che l'avrebbero contestato come una bestia se oggi Pannella avrebbe fatto una cosa che sicuramente avrebbe fatto occupare il Parlamento e dire che il Parlamento di queste violazioni della libertà se ne sarebbe dovuto occupare tutti oggi i pannelliani noi ci vediamo domani sera con Quarta Repubblica spero di avere meno mal di testa e spero che comunque la nostra tesi riaperturista e contro questa ipocrisia che sta ripartendo tutto mentre stiamo morendo lentamente nelle prossime settimane se non diamo una svolta beh insomma che domani la coglierete anche in televisione ciao